Ciao a tutti! Oggi parleremo delle migliori lavatrici su Amazon, ma prima di iniziare ti ricordo che tutti i link delle lavatrici che vedremo si trovano in descrizione o nel primo commento, quindi puoi facilmente trovare i modelli che ti sono piaciuti di più. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Abbiamo anche un canale Telegram dedicato alle offerte, sconti ogni giorno, link in descrizione. Iniziamo! Kendi Smart CS41272-1 S lavatrice a carica frontale, 7 kg, 1200 giri, connettività NFC. Grazie alle funzioni Smart Touch e Smart Cicless potrai collegare la lavatrice Kendi al tuo smartphone e arricchirla con programmi e funzionalità aggiuntive. Per te che sei sempre di corsa, Kendi ha pensato a diversi programmi di lavaggio, dai 14 ai 59 minuti, che si adatteranno ad ogni tua esigenza. Non lasciare che il tuo bucato stia ore ad aspettarti ma programma l'avvio della lavatrice con un ritardo di 24 ore. Tieni tutto sotto controllo, ricevi consigli e allunga la vita della tua lavatrice Kendi grazie alla funzione Smart Check-up, ma i sprechi d'acqua ed elettricità grazie al sensore di rilevamento peso che adatta automaticamente il programma alle dimensioni del carico. Smart Touch è la tecnologia di connettività per prossimità di Kendi. A seconda del prodotto, potrà arricchirlo di funzioni aggiuntive, darti utili consigli sull'utilizzo più efficiente del tuo elettrodomestico e guidarti nella risoluzione dei problemi. Direttamente dal tuo smartphone. L'interazione con il prodotto è abilitata solo da smartphone Android dotati di tecnologia NFC compatibile. Il sensore che rileva il peso riconosce la dimensione del carico ed automaticamente adegua la quantità di acqua e di elettricità usata. Con le nostre macchine, un mezzo carico richiede fino al 40% in meno di acqua, tempo ed elettricità. Beko MDA WTY91436CT lavatrice standard con vapore igienizzante Stincure. 9 kg, 1400 giri, vapore igienizzante Stincure. Ecco la forza naturale e igienizzante del vapore. La nuova tecnologia Stincure offre un'igiene a tutto vapore. Rilasciato a 60 gradi dal fondo del cestello, il vapore agisce prima o dopo la fase di lavaggio a seconda del ciclo selezionato, per offrire un beneficio igienizzante, antimacchia o antipiega. Prova la sua efficacia igienizzante associandolo al programma igiene e per eliminare il 99. 99% degli allergeni e il 97,8% di batteri e funghi. Programma antimacchia. Metti via l'aceto bianco, il succo di limone e il sapone per i piatti. Che sia caffè, salsa di pomodoro, cioccolato o fondotinta sa come eliminare 24 tipi diversi di macchie. Così non dovrai mai più pretrattare i tuoi capi, programma Express Super Express. Non tutti i capi richiedono un lavaggio intenso. A volte, è sufficiente un trattamento veloce. Il programma Express Super Short 14 Minti permette di lavare fino a 2 kg di bucato in soli 14 minuti. 2 kg potrebbero non sembrare molti, ma equivalgono a 20 magliette. È tutto quello che ti serve per uscire di casa, funzione antipiega, se stirare non è il tuo lavoro preferito, ma per chi lo è, la funzione antipiega è proprio quello che fa per te. Il suo cestello gira a intervalli regolari alla fine del ciclo per avere vestiti sempre freschi, senza pieghe. Così passerai meno tempo a stirare e più tempo a fare ciò che ami. Cestello Aqua Wave ad azione fluttuante, il lavaggio potrebbe mettere a dura prova i tuoi vestiti. Con il vetro curvo dell'oblò e l'esclusivo moto ondoso prodotto dalle pale all'interno del cestello, il sistema Aqua Wave tratta i capi più delicatamente migliorandone il lavaggio. Electrolux EW8F396B lavatrice a carica frontale, classe a 9 kg, lavaggio efficace a 30 gradi risparmiando il 30% dei consumi. Con il programma Ultra Wash lavando a trentesimo C, non solo risparmi il 30% di energia rispetto a un ciclo di lavaggio a quarantesimo C, per capi come nuovi più a lungo, nel massimo rispetto dell'ambiente. Rispetto al programma cotone a 40 gradi, prenditi cura dei tuoi capi, ovunque tu sia. Collega la macchina all'app My Electrolux Care, monitora e programma i cicli di lavaggio anche fuori casa e scopri i programmi aggiuntivi attivabili solo tramite app. Tecnologia Ultra Care System, delicata sui tuoi capi, rispettosa dell'ambiente. Ultra Care System premiscela detersivo ed ammorbidente con acqua per efficaci risultati di lavaggio, risparmiando oltre il 30% di energia. Rispetto al programma cotone a 40 gradi, tessuti come nuovi per il doppio del tempo. La tecnologia Sensi Care System regola in automatico grazie ad appositi sensori il ciclo in base al carico, garantendo un risparmio di tempo, acqua ed energia per un lavaggio delicato e sostenibile. Usa il 96% di acqua in meno. Distendi i tessuti e riduci le pieghe di un terzo, facilitando le operazioni di stiro. Il programma a vapore frescente utilizza il vapore per rinfrescare i tuoi capi, risparmando oltre 40 litri di acqua per ciclo. La tecnologia Ultra Care System attiva la forza pulente e trattante di detersivo ed ammorbidente miscelandoli con l'acqua, prima ancora che questi entrino in contatto con i capi presenti nel cesto, per un lavaggio accurato ed efficace, ma al contempo rapido e delicato. Una volta miscelati, vengono rilasciati nel cesto e distribuiti in modo uniforme su tutto il carico, assicurando la massima pulizia e detersione di ogni singola fibra, anche con lavaggi a basse temperature. Bosch Elettro Domestici WAU28S29IT Serie 6, lavatrice a carica frontale, 9 kg, i DOS. La nostra lavatrice 9 kg sfrutta l'innovativo sistema di dosaggio automatico che misura la giusta quantità di detersivo, ammorbidente e acqua necessari per ogni lavaggio. Nei programmi automatici i parametri del lavaggio vengono automaticamente regolati in funzione del tipo di tessuto e del grado di sporco del bucato caricato. Bosch ha sempre a cuore la qualità dei propri prodotti, la soddisfazione del cliente, ma soprattutto la sicurezza. Infatti la nostra Bosch lavatrice è uno tra le più sicure che puoi trovare sul mercato. Il nuovo design delle pareti laterali delle nostre lavatrici 9 kg non è solo accattivante dal punto di vista estetico. Il sistema fornisce anche maggiore stabilità e riduce la vibrazione. Il potenziamento dell'isolamento regola inoltre i livelli acustici, rendendo Bosch Logix e Avantix molto silenziose anche durante il ciclo di centrifuga. Speed Perfect è l'innovativo programma della lavatrice Bosch 9 kg che ti assicura pulito perfetto con tempi di lavaggio ridotti fino al 65%. Proteggi l'ambiente e risparmia denaro grazie alla gestione idrica particolarmente efficiente. La nostra 9 kg lavatrice fa risparmiare tempo e fatica, a volte al costo di un eccessivo consumo di acqua. La nostra tecnologia Active Water porta a risultati perfetti utilizzando solamente la quantità di acqua necessaria. I sensori integrati regolano il consumo d'acqua in base al tipo di tessuto e alla quantità caricata, mentre il nostro cestello brevettato e i sistemi di induzione dell'acqua permettono un ammollo più rapido. Samsung elettrodomestici WWW90T954ASH-S3 lavatrice 9 kg Quick Drive, iControl, 1400 giri, pannello iTouch, cestello a doppio movimento Quick Drive, grazie al fondo con movimento autonomo, muove i capi in modo dinamico ottimizzando l'azione meccanica. Il risultato è un lavaggio delicato, efficiente e con ottima cura dei capi, ad wash, per gestire il lavaggio risparmiando tempo, acqua ed energia. Con ad wash è possibile scegliere quando e in quale fase del programma in corso aggiungere capi. Detergenti, ammorbidenti o additivi. Ecolavaggio rapido. Vapore igienizzante, goditi un bucato impeccabile anche a basse temperature 1 grazie alla tecnologia ecolavaggio. Il detersivo viene trasformato in bolle d'aria in modo da penetrare i tessuti e rimuovere lo sporco con facilità, risparmiando energia e proteggendo i colori e la consistenza dei tuoi capi 2. Lavare il bucato in modo semplice ed efficace non è mai stato così semplice grazie alla tecnologia e-control, che personalizza il lavaggio ricordando le tue abitudini. Suggerendoti i cicli e visualizzando informazioni tempestive. Inoltre, l'applicazione SmartThings di cui è dotata la lavatrice fornisce consigli su cicli, programmazione e risoluzione dei problemi, ottieni una pulizia impeccabile dei tuoi capi, anche quelli più sporchi. La funzione smacchia tutto plus della lavatrice Samsung aiuta a rimuovere un'ampia gamma di macchie ostinate, come sangue, tè, vino, trucco ed erba. I vestiti vengono completamente imbevuti di bolle attive, così lo sporco e le macchie si sciolgono. Per essere rimossi più efficacemente, basta con lo spreco di detergente e con la tediosa operazione di pulizia del vano detersivi. Il cassetto StayClean assicura che il detersivo venga rimosso grazie a uno speciale sistema di getto d'acqua. Così non vedrai più quegli antiestetici residui di detersivo, e il cassetto rimarrà più pulito e igienizzato. Per oggi è tutto. E tu quale comprerai faccelo sapere con un commento. Ti ricordo trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Spero che questo video ti sia piaciuto, e se così dovesse essere non esitare a mettere mi piace, alla prossima! Grazie a tutti!